In Campania supera la media nazionale il dato sulle infezioni resistenti agli antibiotici. È un allarme quello lanciato durante il convegno malattie infettive tra presente e futuro. Lotta alla sepsia, l'antibiotico resistenza presieduto dal docente di malattie infettive responsabile del programma infradipartimentale di stewardship antimicrobica dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, Ivan Gentile. Sempre più germi diventano resistenti agli antibiotici che utilizziamo e quindi sono insensibili a questi. L'Italia è il paese europeo con più morti per antibiotico resistenza e la Campania è la regione con maggior prevalenza di batteri resistenti agli antibiotici. Non stupisce che la Campania sia anche la regione a maggior consumo di antibiotici in tutta Italia. L'altro grosso filone del convegno di oggi è la lotta alla sepsi, una emergenza infettivologica che uccide almeno 6 milioni di persone ogni anno nel mondo. Come ha spiegato la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera federiciana Emilia Anna Vozzella, l'evento che si è svolto nell'aula magna Gaetano Salvatore del Policlinico rientra in un ampio programma di momenti formativi per medici ed esperti della materia. Sensibilizzare soprattutto le comunità, sensibilizzare tutte le associazioni, sensibilizzare il territorio a ridurre l'uso degli antibiotici. Questo a livello, ve l'ho detto, sia come allevamenti, sia a livello del consumo abituale e la Federico II si può fare portavoce di questa necessità emergente per il benessere della comunità. Al tavolo dei relatori l'endocrinologa cattedra Unesco Anna Maria Colau e Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, che ha patrocinato il convegno. È un argomento che può interessare i medici, può interessare i chirurghi, può interessare tutti coloro che si interessano di patologie e che hanno un ruolo importante nella prevenzione dell'antibioticoterapia. Grazie. 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 Grazie.